Ciao bambini, oggi vi propongo questa attività. Occorre un foglio di carta, dei tappi di bottiglia. Il foglio di carta lo piegate a metà, così, per il lungo. Poi appoggiate i tappi di bottiglia e potete fare dei disegni. Guardate questo gioco. Vi fate aiutare, magari, dalla mano al papà per fare dei disegni uguali e vi allenate a fare dei movimenti simmetrici. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao.